Della tavola rotonda o della sicurezza? Della sicurezza, di questa sicurezza che appunto prevede anche di inserire dei panettoni o comunque degli ostacoli per le zone di tenuto più a rischio come la San Babila, Alcastec, le zone di barriere anticamio. Il rischio c'è ovviamente, qualunque misura è utile, la misura principale, quella più utile per evitare quello che è successo a Berlino è la prevenzione e quindi è un impegno più forte da parte del governo e dell'Europa nel gestire l'immigrazione, questa è la prima e più importante misura, poi tutto il resto è utile certo, però quello è ciò che manca davvero. Lei ha ribadito anche la necessità della legge anche di uno schermo? Sì, noi l'abbiamo fatta, adesso ovviamente se serve un aggiornamento per rendere più rigorose le misure siamo pronti a farlo, però è una valutazione che stiamo facendo. Un commento sulla richiesta del PM di revocare i vertici di Fiera Milano? No, nessun commento, oggi vedrò il presidente della fondazione, non della Fiera, della fondazione di cui siamo soci per vedere che cosa sia utile fare, però è una questione che riguarda la Fiera e la fondazione, non la regione. Grazie.